Il Presidente della Regione ha istituito un'unità di crisi insieme ai dipartimenti della nostra Regione per affrontare a fianco degli agricoltori siciliani quella che è un'emergenza, non soltanto più climatica, ma un'emergenza anche sociale. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi dal depoverimento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto all'intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allievatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministro dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della comunità europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia. Abbiamo ricevuto il decreto dopo alcuni mesi di interlocuzione, abbiamo nominato un subcommissario, breve mi recherò a Siracusa, fra un paio di settimane, per insediare il tavolo e iniziare a lavorare. Faremo dei tiraggi per verificare la entità dei lavori di riparazione di questo depuratore, per verificare l'entità ormai a cui è sottoposto, in quanto ci risulta che alcune aziende hanno deciso di operare in proprio, quindi faremo delle valutazioni in maniera tale da fare i lavori bene, in maniera non eccessivamente rosa, saremo sensibili naturalmente a tutte le richieste delle imprese se volessero continuare ad allacciarsi. Massimo impegno, massima professionalità che chiederemo al tavolo del quale ci avvarremo. Presidente, l'auspicio è che gran parte di questa energia prodotta rimanga in Sicilia. Questa è la mia battaglia, la mia battaglia che ha trovato parziale accoglimento nel decreto energia, ci siamo battuti, abbiamo minacciato, ma soltanto minacciato, il blocco del rilascio delle autorizzazioni fotovoltaico nel momento in cui non ci fosse stato riconosciuto dal governo nazionale delle royalties, nel decreto c'è un accenno, c'è un riferimento a che le conferenze delle regioni possano effettivamente distribuire queste nuove royalties, noi faremo la nostra parte, ma la consideriamo già una prima vittoria. Abbiamo già un appuntamento telefonico domani, ci ha concordato col sindaco di Catania, col sindaco Trantino, e domani stabiliremo la data per insediare un tavolo, verificare quali sono i problemi e portare avanti dei progetti che vanno nella direzione di riqualificare l'area industriale. Sono assessore da un anno, per cui ho trovato un po' di problemi, stiamo andando abbastanza veloce, abbiamo riqualificato diverse aree industrie della Sicilia nel corso di un anno, tra cui Termini Merezze per esempio, Palermo, oggi sarò ad ACR Reale per verificare l'addendum che abbiamo firmato con IRTIS per riqualificare l'area industriale di Carini, per cui abbiamo già avviato un percorso per una parte dell'area industriale di Catania, domani mi sentirò con il sindaco Trantino per andare veloce, per cercare di dare agli industriali la possibilità di avere decoro, strade, fognature, videosorveglianze e illuminazione pubblica, perché il biglietto da visita è importante. È mia abitudine procedere sempre con cronoprogrammi di interventi, rispettando le date, cercando di dare un buon servizio alla comunità, soprattutto agli imprenditori. L'imprenditore multimiliardario sudafricano Elon Musk ha negato che la sua azienda SpaceX stia vendendo i suoi terminali per la connessione internet satellitare alla Russia. Le parole di Musk arrivano a smentire quanto dichiarato domenica dal servizio di intelligence militare ucraino, che ha sostenuto che le forze russe sono state scoperte a usare i terminali Starlink per agevolare i loro attacchi. Anche il Cremlino ha smentito la notizia, aggiungendo che non intende entrare nelle discussioni tra Kiev e Musk. I terminali Starlink utilizzano una serie di satelliti gestiti da SpaceX per fornire comunicazioni ad alta velocità e sono stati fondamentali per dare all'esercito ucraino un vantaggio sulle truppe russe in questi due anni di guerra. Nelle ultime settimane i media ucraini però hanno cominciato a riportare numerose notizie sull'uso di Starlink da parte delle truppe russe in prima linea nell'Ucraina occupata. SpaceX ha rilasciato una dichiarazione di smentita sui social media già l'8 febbraio, ma non è bastato. Russian forces appear to have constructed a 30 km long barrier dubbed the Tsar train in occupied Donetsk region, possibly to serve as a defensive line against future Ukrainian assaults. The Institute for the Study of War says satellite imagery dated on 10 May 2023 and then 6 and 10 February 2024 shows that Russian forces constructed a long line of train cars stretching from occupied Olenivka, south of Donetsk city, to Volnovaha, southeast of Vugledar and north of Mariupol over the past nine months. A Ukrainian open source intelligence interactive online map of the military operations Deep State reported on 11 February that Russian forces have assembled more than 2,100 freight cars into a 30 km long train. The source reported that Russian forces began assembling the train in July 2023 and suggested that Russian forces intend to use the train as a defensive line against future Ukrainian assaults. The railway line between Olenivka and Volnovaha is roughly 6 km from the Institute for the Study of War's current assessed front line southeast of Novomikhailivka at its closest point and is in the area of the front that was relatively inactive when Russian forces reportedly began construction. Russian forces have recently made marginal territorial gains in this area. The Institute for the Study of War says that the Russians could have assembled the train for other purposes as well. Il capo dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, spera che la Commissione europea continui a finanziare le sue operazioni. Durante la sua visita a Bruxelles lunedì, Lazzarini ha affrontato le preoccupazioni della Commissione riguardo le presunte infiltrazioni di Hamas nell'agenzia che hanno spinto l'Unione ad avviare una revisione dei finanziamenti. L'Urwa sta operando un'indagine interna per verificare se alcuni dei suoi dipendenti abbiano effettivamente preso parte agli attacchi del 7 ottobre, come denunciato da Tel Aviv. Più di una dozzina di paesi, tra cui diversi stati del blocco, hanno già sospeso i finanziamenti per un valore di circa 420 milioni di euro. La contribuzione di Commissione è assolutamente critica, perché è un'epposto di 82 milioni di euro expected al principio di Marche. Se avessi avessi nessun paese o prese di fondamenti, il nostro investimento sarebbe bello fino a l'anno di Julio. Il nostro investimento sofferebbe come adesso, come nel mese di Marche. Sarà negativi, aspettate negativi 30-40 milioni di marzo, ma poi sarà significativamente negativi, come dal aprile. Le conclusioni preliminari dell'indagine indipendente potrebbero essere rese note per la fine di marzo, ma le valutazioni finali richiederanno più tempo. Sulla base dei risultati dell'indagine, i 27 paesi dovranno decidere sull'erogazione dei fondi comunitari all'agenzia. Ma il capo della politica estera di Bruxelles, Joseph Borrell, ha fatto intendere che i finanziamenti fluiranno come previsto, perché l'Urwa è insostituibile. La maggior parte è chiaramente capace che non c'è l'alternativa per supportare le persone palestiniane che abbiamo in place. E ha stato in place per 70 anni o più, con Hamas e senza Hamas. Quindi non posso immaginare una magica cosa di dire che domani qualcuno viene e provvedendo le scuole per avere un milione di persone. Lazzarini ha detto che le operazioni di Israele a Rafa, vicino al confine con l'Egitto, stanno già disturbando l'ingresso degli aiuti umanitari e che i convogli vengono continuamente attaccati, anche per la mancanza di protezione della polizia locale. E per la prima volta ha dichiarato che non si dimetterà nonostante le richieste insistenti del governo israeliano. Il completamento dell'invasione militare di Gaza annunciato da Israele ha suscitato le proteste del mondo. A Rafa e nel sud, al confine con l'Egitto, è sfollato ormai per lo più di Nintendopoli circa un milione e mezzo di palestinesi. Sono le persone fuggite via via negli ultimi quattro mesi da bombardamenti e combattimenti nel resto della striscia. Rai d'aerei su Rafa lunedì hanno causato decine di morti e feriti. Prima della attacco finale Israele deve avere un piano di evacuazione dei civili fattibile, aveva avvertito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden domenica. La gente non sa dove scappare, gli ha fatto eco l'Unione Europea. Hamas ha minacciato che in caso di avanzata su Rafa non vi sarà alcun accordo sugli ostaggi. Non permetteremo che si ripeta una pulizia etnica dei palestinesi, ha detto lunedì dal Qatar il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen chiedendo l'intervento della comunità internazionale. Con il 51,7% dei voti nel ballottaggio di domenica, Alexander Stubb è il nuovo presidente della Finlandia. L'ex premier ha battuto il candidato indipendente Pekka Havisto, fermatosi poco sotto il 49% delle preferenze. 55 anni, conservatore ma europeista, Stubb ha già ricoperto diversi incarichi. Si troverà a gestire soprattutto la tensione con la Russia ora che la Finlandia che ci confina è membro della NATO. Nella Repubblica finlandese infatti il presidente guida la politica estera e le forze armate. con la Russia. Il 28 gennaio Stubb aveva avuto la meglio al primo turno sugli altri otto candidati. con la Russia. 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 Dopo decenni di neutralità, lo scorso aprile la Finlandia è diventato il 31esimo membro della NATO. È bastato un abbraccio durante un breve incontro a San Pietro domenica per mostrare al mondo quanto i rapporti tra il pontefice e il presidente argentino Javier Milei siano migliorati. L'occasione è stata la canonizzazione della Prima Santa Argentina dopo gli insulti che Milei aveva rivolto a Papa Francesco durante la campagna elettorale a sancire la riconciliazione anche l'udienza privata lunedì mattina. La visita a Roma di Milei è stata anche l'occasione per un incontro ufficiale con il presidente del Consiglio Giorgio Meloni qui a Palazzo Chigi. Una visita che rientra nel primo tour internazionale di Milei che lo ha portato prima in Israele e poi in Italia. Il presidente argentino rappresenta una figura di riferimento della destra sudamericana e il presidente del Consiglio Giorgio Meloni è stato tra i primi leader europei a congratularsi con Milei per la sua vittoria e entrambi hanno la stessa opinione politica su una serie di argomenti. Un incontro che ha servito soprattutto a rafforzare gli storici rapporti di amicizia tra i due paesi e a gettare le basi di una nuova alleanza al di là dell'Atlantico. Oltre al presidente del Consiglio Milei ha incontrato il presidente Mapparella e il ministro degli esteri italiani. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. È stato un weekend e un lunedì di divertimento e goliardia in diversi paesi europei dove centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per le tradizionali parate che segnano la fine del mese di carnevale. Nel cosiddetto Rosemond e il lunedì grasso per i tedeschi si sono svolte le iconiche e seguitissime sfilate di Düsseldorf, Magonze e Colonia famose per i loro carri dalla satira politica pungente. Le maschere eleganti e ricercate sono invece il segno distintivo del celebre carnevale di Venezia che si chiuderà martedì con la proclamazione del costume più bello in piazza San Marco. C'è una passion per Venise, per la Ville, e quindi cerchiamo di portare la sua inferna in perpétuando le tradizionali vénitiano.